Eccoci qua, direzione Momigno, stiamo andando a trovare i ragazzi del Val di Nievole che stanno preparando una notturna dove faremo le classiche varianti. Direi pronti, siamo in autostrada, tornato è dietro mio che ci segue, abbiamo giù Patrick e Massi che sono già là, in pole position, noi come al solito sempre un po' in ritardo, ma lascia fare, arriviamo, arriviamo. Là c'è Davide che ci aspetta e adesso arriviamo, Davide prepara tutto che ci vogliamo divertire stasera. Dai, ancora un po' di chilometri e poi arriviamo. Ciao a tutti, ci vediamo là. Boh, arrivati, questo è il broghetto di Momigno. Ciao 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 ciao, qui c'è una bella banda. Eccolo! Ciao, ciao! Ciao Flori, buonasera! No, sto parlando giusto di te, che sono io l'uomo dei quelli. Ti spiacciono i miei video con le madonne? Come va? Va bene, va bene. E allora? E allora? E? T'ho posto. Mi ha fatto un po' di curve a venire su. Eh, sì. Va bene. E allora? T'ho posto? Sì. A quanto le mettiamo Manuli come? Ma io ti devi fare 0.1 e 0.2. Ma io ti devi fare 0.1 e 0.1. Ma io ti devi fare 0.1 e 0.1, dai! Ma io ti devi fare 0.1 e 0.2 e 0.2 e 0.1 e 0.1 e 0.1. no la cosa è cattivo però Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tomas Bravo 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 Oh Bravo 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 Siamo di rientro verso casa Sono quasi le nove Ormai mezz'oretta, 40 minuti, siamo a casa Direi che è stata una notturna bella impegnativa Divertente, di quelli che piacciono a noi Con belle varianti I ragazzi sono stati veramente eccezionali Ringrazio Davide, Emanuele, Florian Tutti i ragazzi del Valdinievo, del Presidente Complimenti Ci hanno fatto una bella pasta asciuttata Ci hanno dato il caffè Ci hanno dato da bere Ottimo lavoro Direi grandi Ci vediamo al prossimo giro Un saluto